Ciao ragazzi, sono Femme Marulli e siamo al terzo video di oggi e faremo la reazione ad un video che si chiama Scendi dal mio letto e io vorrei salutare in questo video Eldad, Pakopo 76, D3P07, Daniel Vinali e Angelica Baur andiamo a guardare questo video che fai sul letto? che fai sul letto? scendi dal mio letto, Hugo scendi dal mio letto scendi dal letto scendi dal letto scendi dal mio letto non va a finire male non va a finire male qua scendi, scendi alletto scendi alletto scendi alletto scendi devi scendere mi capito no? scendi 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 questo cazzo diretto scendi 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 vado a fare la bb quando provo si trovo ancora in caso sono mazzaro ok? mi capito no? mi capito no? e' una scena bravissima hai pure lo stai con tuttore il tuo figlio non dici sai che faccio? fanno dormire sul divano colpa tua è di quella hai capito? eh? hai già dormito un po' di vane? sassone è da finì mi dite sassone, capito? nel mio cazzo di letto basta, già facci più ogni sera senza storie basta e quindi ragazzi ci vediamo questo video ciao ciao